Allora ragazzi, ci affacciamo, saliamo sul tetto di Giggetto, facciamo una bella panoramica di ricambi posteggiati, l'ultimo tramonto prima dell'inizio della fiera e già il parcheggio è quasi pieno, seguitemi. Opa, siamo sul tetto di Giggetto. Ancora il parcheggio, là in fondo è libero, però rispetto a ieri sera le presenze già sono tante. Un po' meno rispetto all'anno scorso, sorelle e fratelli campionisti, però è sempre un piacere. Allora ragazzi, con questo bel tramonto alle mie spalle, io mezzo fuori dall'oblò di Giggetto, vi mando un buon saluto, ecco, sembro che ci abbia l'aureola, vero? Scusate, comunque ci sentiamo domani con gli altri tantissimi video, farò un sacco di video sui camper esposti, sulle novità e più che altro anche sugli accessori. Dal tetto di Giggetto è tutto, con questo bel tramonto parmese, un saluto a tutti perché qua ci sto un po' strattino, ciao a tutti, ciao ciao!